Grazie a tutti Sono qui perché sono freddo, sono freddo, non facendo nulla, ci stanno matando, non lo vedete, ci stanno matando. Non stanno matando, non so l'improgniamo futurezza e di uscire la pereza, ci stanno matando. Il fatto di uscire la pereza, il fatto di uscire la pereza, ci stanno matando in un'altra cosa. No, 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 no. No, 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 no.